buon sabato sera a tutti cari amici domani e domenica una volta si diceva giorno del signore giorno del riposo io lo dico anche adesso perché è così è importante il riposo come è importante santificare il giorno del signore come è importante dedicare un po di tempo alla preghiera allo spirito alla nostra anima e allora nel salutarci nell'augurarci una notte serena un riposo tranquillo ci affidiamo sempre alla grazia del signore lo benediciamo per tutti i suoi prodigi e accogliamo la sua benedizione il signore sia con voi vi benedica dio omnipotente padre e figlio e spirito santo buonanotte ciao